Ciao ben trovati a tutti, allora vediamo le due coppie, CAD contro Yen, dollaro canadese contro Yen e poi il cable, ossia sterlina contro dollaro statunitense. Vedremo come non a caso abbia scelto queste due coppie e vedremo presto il motivo. Abbiamo le due medie mobili a 50 e 200 periodi, siamo su dollaro canadese contro Yen, abbiamo avuto quest'area di massimo che ha respinto il prezzo, la medie mobili a 50, adesso forma un supporto, abbiamo avuto qui un pattern engulfing e poi una pinna rialzista, quindi è lecito attendersi una nuova spinta rialzista che tendenzialmente non credo andrà a superare però di nuovo questo doppio massimo, possiamo chiamarlo così, perché non credo andrà a superare il doppio massimo, in primis abbiamo una chiara divergenza ribassista sul momentum, andiamo subito a inserirlo, eccoci qua, abbiamo una chiara divergenza ribassista sul momentum, su questo massimo e il massimo successivo che è più alto, mentre vediamo in maniera molto chiara il successivo massimo sul momentum è più basso rispetto al primo corrispondente a questo. Il momentum è andato ampiamente sotto linea dello zero, quindi abbiamo avuto un segnale short. Quello che mi fa presumere che non si vada a fare nuovi massimi è che comunque il prezzo è troppo distante dalla medie mobili a 200, vediamo come quando il prezzo tende ad allontanarsi molto, comunque poi ovviamente la media mobile, essendo appunto dove il prezzo è stato negli ultimi 200 giorni, adesso è troppo lontano, c'è un eccesso appunto di lontananza dal prezzo rispetto alla media e quando avviene solitamente il prezzo viene di nuovo riattirato. E' interessante vedere anche come il grafico rispecchi Wall Street o anche il DAX, ossia comunque il movimento degli indici principali. Discesona durante la pandemia e poi ripartenza e adesso come abbiamo visto anche ad esempio sul Nasdaq, fatti dei massimi abbiamo un nuovo ritraccio. Quindi una prima utilità di fare con il dovuto accorgimento di scegliere una coppia che possa essere sì ma l'azionario, quindi di fare Forex, è che si può parallelamente anziché andare a esporsi a una volatilità importante sull'azionario, cercare di ricopiarne il movimento utilizzando una coppia di valute, come in questo caso il dollaro canalese contro ien, quindi esporsi a una volatilità sicuramente inferiore essendo un rapporto tra due valute e sappiamo benissimo che rarissimamente sul Forex o comunque sui cross valutari si possono avere dei movimenti percentuali ampi come ad esempio sull'azionario. Quindi tendenzialmente la mia idea è che il prezzo continuerà ancora a ritracciare, fermo restando un nuovo tentativo di riavvicinarsi agli 88, tenderà a ritracciare e potremo vederlo in area 83,50. Quindi su questo livello che è stato precedentemente per tre volte resistenza, lo vediamo proprio in maniera molto chiara, in questi punti e quindi adesso abbiamo un livello supportivo in area 83,50. Questo consentirà chiaramente al prezzo di colmare tutta questa distanza dalla media mobile 200 che essendo a ritardo continuerà a salire e a questo punto poi potremo avere un interessante ingresso al rialzo. Quindi per chi fa trading di brevissimo proverebbe a attendere un riavvicinamento in area 87,50, quindi su questo livello, quindi su questa resistenza di brevissimo 87,50 per cercare lo short con target in area 83,50. Altrimenti per chi fa operatività trend following, quindi seguendo il trend primario comunque del Sista, attenderebbe appunto 83,50 per cercare ingressi al rialzo. Passando al cable, quindi a sterlina contro dollaro che andiamo adesso a cercare e possiamo anche farcela, eccoci qua, siamo sempre sul daily e cosa vediamo di interessante? Che pur essendo una coppia di valute differente dall'altra, ossia abbiamo quattro valute differenti tra loro, abbiamo anche qui il medesimo movimento, sia discesa durante la fase pandemica, ripartenza, un massimo, poi un massimo più basso. Cosa è successo? Che qui il momentum ha appena tagliato al ribasso della linea dello zero, quindi sta dando adesso un segnale ribassista. E questo cosa ci fa pensare? Che anche in questo caso potremmo avere un riavvicinamento alla media mobile a 200 e anche in questo caso questo potrebbe corrispondere alla prosecuzione della incertezza sull'azionario della settimana scorsa. Quindi anche con il cable, quindi posterlina dollaro statunitense, si può cercare di copiare il movimento dell'azionario senza esporsi però alla volatilità classica degli indici. In questo caso un livello che il prezzo potrebbe andare a prendere è 1,3450, sia un livello che è stato precedentemente, vediamo in maniera molto chiara una resistenza che ha tenuto anche per lungo tempo e che adesso sarà un supporto interessantissimo in ottica longa. Quindi anche in questo caso abbiamo un movimento sui prezzi che ci sembra andare a evidenziare un canale ribassista anche abbastanza evidente, eccoci qua, che potrà appunto poi portare il prezzo in maniera molto chiara in area 1,3550, e quindi avere poi sia la trendline, il taglio dinamico che fa da supporto, avremo poi il supporto della parte bassa del canale, ok, quindi questa qui, e in più avremo la media mobile 200 che anch'essa farà supporto. Quindi mi attendo la prosecuzione della discesa fino a 1,3540, 1,3550, dove sarà interessante andare a cercare operatività longa. Per chi fa anche in questo caso trading di brevissimo, secondo me è possibile che si possa assistere a un nuovo riavvicinamento a 1,3950, quindi andare a cercare di retestare come resistenza la parte alta del canale, qui sarebbe interessante un eventuale short di breve proprio con target 1,3540. quindi due coppie di valute, quattro valute in tutto differenti tra loro, ma che vediamo come ci permettono, questo è importante secondo me fare Forex, come ci permettono anche di andare a esporci sui mercati senza sottostare la volatilità classica degli indici azionari. Un saluto a tutti e buon trading. Un saluto a tutti.